A San Matteo degli Armeni, ieri, pomeriggio dedicato a Dante, tra letture di alcuni canti, approfondimenti sulle conseguenze dell'esilio nella vita e nell'opera del poeta, il tutto animato da un sorprendente dialogo con la marionetta di Dante. Sono Dante, Alighieri. Che cosa hai fatto per diventare un poeta così famoso? Ho fatto quello che tutti i giovani appartenenti alla buona società del tempo facevano. Ho frequentato una delle tante scuole tenute da un doctor puerorum, maestro di fanciulli. Poi presso la scuola cattedrale... Ci sono tenute insieme le teologie cristiane, la Chiesa di Roma, il frammento cataro. Onora, pur se in modi più complessi e nascosti, l'escatologia islamica, un certo ebraismo mistico con influenze della cabala sulla commedia. Questo oggi si chiama pluralismo inter-intraculturale. Quell'anima gentil fu così presta sol per lo dolce suon della sua terra di fare al cittadin suo qui vi festa. E ora in te, non stanno senza guerra, li vivi i tuoi, e l'un l'altro si rode di quei c'un muro ed una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno se alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Iustiniano, se la pusella è vuota. San sesso, fora la vergogna meno. Hai gente che dovresti esser velota e lasciarsi del Cesare in la sella, se te non intendi ciò che Dio ti nota. Guarda, conosci. Grazie.